Il telefono è ciù. Buono? Ok, lo vedi più te, lo vedi che... C'è il video di Marco che si infrasca a Marbella. Tre mesi. Tre mesi? Da quando eravamo insieme, che volevamo volare. In condor della... Stai rispondendo. Si risponde, possiamo collegarci qui insieme fra qualche minuto. Ci vai a una testa di un gatto, ti guarda. Ti guarda, posso fare il castellone sui tempi. Non si fanno le cose lì. No, no, no.